o vediamo un po cosa ci prepara la mamma franca questa sera al mosè il riso al radicchio rosso con la salsiccia adesso lo facciamo cuocere poi lo mantechiamo con un po di panna e il parmigiano e poi sopra mettiamo l'oglietto con il rosmarino quello rampicante giusto ok tra un po lo riguardiamo per adesso la stai cuocendo piano in pianino alza non si sente non si sente adesso la mettiamo mantechiamo pannina quindi cosa sono due cucchiai di panna non di più non so vado due cucchiai e poi arrivo da ove parmesano due mal parmesan e come fai fuoco basso o spegni poi fuoco basso bene facciamo la cremina bellissimo è questo che profuma così spettacolo pronti impiattiamo impiattente adesso impiattiamo grazie ecco qua o impiattiamo il risotto il risotto al radicchio per merilu con la bocca piena mettiamo l'olio fatto saltare no assolutamente ma noi non siamo un ristorante stellato ecco mettici il rosmarino nostrano no va bene va bene e l'assiette c'è prete e voilà e voilà e voilà direttore grazie buona 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 come